Musica Ciao a tutti e benvenuti nel 37esimo episodio della serie Parliamo, nei serie che giornata dopo giornata vado ad analizzare tutti gli episodi arbitrali più dubbi e discussi Prima di iniziare però con gli episodi dell'ultima giornata appena giocata di serie A Volevo ricordarvi di lasciare un piacere il video, iscrivervi al canale e di lasciare un commento qua sotto con il vostro personale parere sui vari episodi che oggi andremo ad analizzare In una giornata che è stata positiva per gli arbitri, quasi tutti hanno portato a caso una buona sufficienza Ci sono sempre stati alcuni errori ma rispetto alle ultime giornate è sicuramente la situazione migliorata Detto questo partiamo dalla prima gara che è Sampdoria-Sassuola, arbitratta da Meraviglia a come abbiamo deciso di affidare come voto 6+. Un solo episodio dal punto di vista disciplinare, stiamo parlando del cartellino giallo estratto correttamente nei confronti di Torsvert Decisione corretta quella dell'arbitro, Meraviglia Proseguiamo poi con il primo dei big match di questa giornata, stiamo parlando di Inter-Atalanta, arbitrata da Orsato A come abbiamo deciso di affidare come voto 7,5 Prestazione che fa risalire sicuramente Orsato che nelle ultime gare che arbitrato non aveva convinto del tutto stranamente Ma in questa gara sembra essere tornato l'arbitro che tutti noi conosciamo Una buona gestione della gara, un rispetto che i giocatori tengono verso di lui e verso qualunque sua decisione Questa è sicuramente una cosa molto importante per gli arbitri, soprattutto quando sei in campo Un episodio ha suscitato più scalpore diciamo tra gli altri ma la decisione alla fine è quella corretta Stiamo parlando del gol di Pasalic, si sono lamentati tanto i giocatori dell'Inter in campo per questo possibile fallo in attacco Perché Pasalic va a colpire sì il pallone ma anche la gamba di D'Ambrosio ma la decisione alla fine è quella corretta Il contatto c'è ma diciamo è involontario e soprattutto va a seguire poi la conclusione del centrocampista dell'Atalanta Altri due episodi nell'arco della gara, stiamo parlando di due gol dell'Inter Il primo è giusto annullarlo e stiamo parlando del gol di Celanoglu per fuorigioco Mentre è giusto convalidare quello di Lautaro Martínez, infatti nell'azione non c'è nessun tipo di fuorigioco Proseguiamo poi con un altro big match, stiamo parlando di Fiorentino-Roma arbitrata dai Rolli A cui abbiamo deciso di affidare come voto 6+. Anche qui un solo episodio, stiamo parlando del gol della Roma Giusto convalidarlo, non c'è fuorigioco anche in questo caso con l'ausilio del VAR Quindi una buona decisione, aiutato sicuramente dalla tecnologia ma è stata inserita per quelle Quindi ai Rolli e tutto il team arbitrale è stata brava ad utilizzarla in questo caso Proseguiamo poi con Salernitana-Udinese, arbitrata da Baroni A cui abbiamo deciso di affidare come voto 6.5 Partiamo dai due episodi dove l'arbitro ha preso la decisione corretta Il primo è quello che ha portato al cartellino rosso per doppia munizione di Ziegler Entrambi i cartellini gialli sono corretti Così come è giusto anche non assegnare calcio di rigore alla Salernitana Nel contatto avvenuto tra Perez e Coulibaly Resta più qualche dubbio Siamo più sul limite di un mancato rigore alla Salernitana nel contatto tra Perez e Pionte Che ho qui la decisione più corretta Molto probabilmente sarebbe stata quella di fischiare e assegnare calcio di rigore alla squadra campana Proseguiamo poi con Spezia-Torino, arbitrata da Guida A cui abbiamo deciso di affidare come voto 6.5 Sicuramente non un ritorno all'altezza Quello di Guida che non sembra essere tornato sui ritmi Che l'avevano portato poi ad essere uno degli arbitri più importanti In Italia anche in questo caso ha perso un po' la gara dalle sue mani Soprattutto dal punto di vista disciplinare Dove si è giusto il giallo per Ekdal Ma poi nello stesso metro non è stato ottenuto per il prosieguo della gara Infatti poi mancano ben tre cartellini gialli per dei giocatori del Torino Stiamo parlando di Ilic, Ricci e Buongiorno Giusta invece la decisione di annullare il gol di Enzola Per un precedente fuorigioco di Esposito Con l'ausilio del VAR Che è andato a scovare la posizione irregolare del centrocampista dello Spezia Proseguiamo poi con Bologna-Napoli Arbitrata da Marcenaro A cui abbiamo deciso di affidare come voto 7,5 Buona prestazione anche per lui Tutte giuste le decisioni che ha preso nella gara Stiamo parlando tutti di situazioni in cui una o l'altra squadra aveva segnato Partiamo dal secondo gol di Ozyman Giusto convalidarlo, non c'è nessun tipo di fuorigioco Dall'altra parte per il Bologna è giusto convalidare il gol di Ferguson Anche in questo caso non c'è fuorigioco Così come è giusto annullare il gol di Sansone Sempre per fuorigioco Andiamo avanti con Monza-Leccia Arbitrata da Doveri Arbitro importante per una sfida importante Che ha portato la salvezza matematica a Leccia A cui abbiamo deciso di affidare come voto 6,5 Due rigori all'interno della gara Uno che è stato anche peraltro decisivo Poi al termine della gara con il risultato che è finita Ecco la gara che è finita proprio grazie a questo calcio di rigore Partiamo però dal rigore precedentemente assegnato Stiamo parlando di quello del Monza Diciamo che Doveri è stato bravo poi a correggere due episodi Che però dovevano essere visti in campo Soprattutto questo dove il contatto di Baschirotte Nettamente sulla gamba di Colpani Grave non averlo visto dal campo Però la tecnologia è intervenuta e quindi poi ha salvato Doveri anche nel voto Infatti è giusto il rigore assegnato al Monza Con l'ausilio del VAR Così come è anche giusto Anche in questo caso forse un po' meno evidente Visto anche la posizione dell'arbitro E la situazione con tanti giocatori all'interno dell'area di rigore Ma anche in questo caso il rigore assegnato al Lecce è corretto Sempre con l'ausilio del VAR Proseguiamo poi con le altre gare Altre tre gare che però nessuna delle tre ha avuto episodi arbitrali importanti E degni di note Stiamo parlando di Juventus Mino L'arbitrata da Mariani Accubiamo deciso di affidare come voto sei Una gara tenuta molto bene dall'arbitro Che però è stata una gara corretta e tranquilla E non c'è stato nessun episodio arbitrale dubbio Continuando con Lazio-Cremonese Stesso discorso Sicuramente l'appeal della gara era un po' inferiore Visto che sia Lazio sia Cremonese Non hanno più obiettivi in queste ultime giornate Ma comunque Juha è stato bravo a governare la gara Così come è stato bravo Kiffi in Elias Verona-Empoli Qua sicuramente la situazione è un po' più tesa Per la situazione della squadra veneta Ma comunque Kiffi sarebbe portata a casa Con una sufficienza Detto questo Io spero che il video vi sia piaciuto Noi ci vediamo con un prossimo video sul canale Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.